però secondo me sono un esempio di secondo me boh no no goliardia vivete la vita come come vi viene non preoccupatevi del pelo perché secondo voi ho fatto mi so tagliato tutto secondo voi così dovete essere aiuto dovete essere voi stessi non venete fottere un cazzo di nessuno ma giù dovete essere voi stessi voi stessi non vi fate comando da nessuno porco dio questo è come consigli che vi do io e che vi posso insegnare se restate voi stessi non pensate agli altri se cambiate cambiato perché voi siete voi così pass se io cambio perché cambio io così vuol dire che uno cresce che non cresce un rimane piccolo rimane nel suo perché ho tagliato barbaciglie e capelli su tutto quando anche per dimostrare che io sono se voglio faccio quello cazzo oggi non me ne fotte di quello che giudica la gente me ne fotte di sicuro che sono brutto che sono brutto per te per me sono belli ma sono bellissimi come sono bellissimo